Il Verde ha avuto tanti problemi, sono dieci anni che se ne dibatte, però non si riesce a trovare una soluzione. Noi come cittadini ternani vorremmo una soluzione all'altezza della nostra storia, una soluzione valida che ci consenta e ai nostri figli, che è una vergogna che conoscono il teatro, di avere uno spazio il più bello possibile, nel quale in particolare si possano rappresentare opere di vario tipo, balletto, musica, danza, prosa, degne della cultura. Il primo punto è la capienza, per realizzare spettacoli di un certo livello non prendono in considerazione location che non hanno mille posti. Da mille posti in su c'è la possibilità di fare spettacoli degni, altrimenti facciamo la solita cosa locale, ben venga per carità le compagnie locali, i giovani eccetera, è bene che lavorino, ma noi vogliamo lavorare ad altro livello. Perché questo grido d'allarme? Perché il Comune ha presentato in sovrintendenza e a breve probabilmente lo approvano un progetto nel quale riduce addirittura l'attuale capienza del Verdi, non restaurandolo, non facendo un intervento culturale come il teatro storico delle Poletti, che è il teatro più bello del centro Italia, sicuramente splendido e aggiornatissimo, anche da un punto di vista non solo acustico, ma anche da un punto di vista di visibilità. A Rimini l'hanno recuperato, era nelle stesse condizioni di quello di Terni, a Fano l'hanno recuperato, c'era stato un incendio, era nelle stesse condizioni di quello di Terni, erano più piccoli, quindi noi ce l'avevamo più grandi, ce l'abbiamo più grandi con mille posti e penso che ci dobbiamo impegnare a aprire un dibattito, voi tutti i giorni imbattete e battete sul Verdi per aprire, per restaurare questo edificio. In quel sito io parlo anche di un'alternativa, se non si riuscisse a fare questo e non sprechiamo soldi, perché comunque il costo di un intervento, anche quello del Comune, è di tanti milioni, perché il palcoscenico, i posti a sedere, le uscite di sicurezza, gli impianti, l'acustica, sono soldi, molti soldi, per fare un edificio che non ha capienza, questa è una pazzia, ve lo debbo dire, assolutamente.